E' con noi Daniele Gagliotta! Buonasera, ciao Daniele benvenuto. Da quanto tempo maneggi il pizze e fa il pizzaiolo? Io ho imparato il lavoro del pizzaiolo perché sono a 16 anni, sono entrato in carcere e grazie ai tutti i pizzaioli. E' che Enrico Porzio è stato il mio maestro, è stato Polinio e forse ci ha creduto. La cosa che mi ha colpito è che tu sei stato al Super Bowl. Ah, in tante cose anche io. No, anche il Super Bowl, cioè. Per dirvi la verità, veramente sono molto più contento di ricevere questo riconoscimento. Che è qui nella tua terra. Allora, perché poi ti lo faccio consegnare, Enrico. Ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, grazie alla quale è riuscito a ribassare la squadra della sua vita, fino ad arrivare al Super Bowl 2023, consegna il premio Giuseppe Napoletà o dell'azienda Solania. Grande storia, questo ti fa onore. Io dico, è un po' anche, veramente vieni dai sedi a vicino, e oggi mi vieni, riceverai un premio, e stai a una riparta internazionale, e dicevo, avrai un locale a Washington. E quindi, veramente ti fa onore.